A te che difendi la parità e poi pensi donna al volante. Buy Hours ti offre coerenza. Ora puoi prenotare 3, 6 o 12 ore di hotel. Entra quando vuoi e paga solo per il tempo di cui hai bisogno. Prenota con Buy Hours. Più di 3.000 hotel delle migliori catene. Adesso, adori.